Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV, ancora a maltempo nelle prossime ore in Toscana e anche in provincia di Arezzo. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le aree dell'Alta Valtiberina e dell'Alto Casentino con validità sino alle 16 di domani, sempre nelle stesse zone e codice giallo per temporali forti. Sull'est della regione invece precipitazioni sparse con possibili rovesci o locali temporali. In Valdarno invece la polizia del commissariato di Montevarchi ha individuato e denunciato i responsabili di una serie di furti messi a segno all'interno di auto. Tutto era partito proprio da una denuncia di una donna di un furto e di un danneggiamento della propria vettura. Le indagini dei poliziotti si sono concentrate sull'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza del comune di Montevarchi e da cui sono riusciti a ricostruire il furto e individuare i responsabili che nel frattempo avevano rubato anche una bicicletta. I due presunti ladri sono stati individuati proprio in sella al mezzo rubato poco prima e con addosso gli stessi abiti che avevano durante i numerosi furti commessi. Per loro è così scattata la denuncia. Torniamo invece adesso in città. Giovanni Cavallo per circa 32 anni è responsabile della centrale operativa del comando provinciale carabinieri di Arezzo. Dallo scorso sabato è andato in pensione. Lascia il servizio attivo nell'arma e la provincia di Arezzo anche se non andrà lontano essendosi stabilito in provincia di Siena. Nello svolgere il proprio incarico ha sempre affrontato le varie emergenze con abnegazione e spirito di servizio. Così nella 2022 il prefetto di Arezzo lo ha insegnito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. E adesso voltiamo pagina per tornare a parlare delle elezioni amministrative. Tre i comuni che sono andati al voto e il risultato ha portato entusiasmo nel centro-destra. Sì la provincia di Arezzo ormai per secondo i nostri conti circa il 67 per cento degli abitanti è ormai amministrata dal centro-destra. È di fatto la provincia più a centro-destra di tutta la Toscana. Fratelle d'Italia festeggia il risultato elettorale delle amministrative 2023 in terra retina. Il vero ribaltone si è avuto alla Terina Pergine-Valdarno comune storicamente amministrato dalle forze di centro-sinistra o comunque moderate e che adesso vira a destra con Jacopo Tassini. È stato importantissimo quello che è stato fatto già cinque anni fa dove purtroppo forse la questione ancora della fusione aveva creato delle grosse problematiche e non aveva consentito a un centro-destra di poter vincere. Noi riteniamo che Jacopo Tassini sia la persona giusta per rimettere la popolazione al centro dell'azione politica e soprattutto di dare quella capacità agli abitanti sia di la Terina di Pergine di sentirsi una comunità e provare a vedere se questa fusione possa dare dei frutti positivi. Secondo noi è stato al tempo un errore ma oggi il comune è unito e dobbiamo cercare di ricostruirlo in maniera armoniosa dando un senso di comunità che diciamo il PD con le sue scelte non è riuscito sicuramente a dare ma delle due anzi a distruggere. Una tornata elettorale un po' più aspra a Capolona dove i due schieramenti del comune del basso Casentino vedevano da una parte il sindaco uscente di centro-destra Mario Francesconi e dall'altra lo sfidante di centro-sinistra Sariodini che davvero non si sono risparmiati anche con le parole. Si è cercato di attribuire a Mario Francesconi delle responsabilità non sue su delle tematiche che ahimè in verità vengono sempre da comunque scelte macro diciamo di macro politica economica che ben poco hanno a che vedere con poi la capacità di incidenza di un sindaco che a fronte di permesse o richieste anche deve dare il sindaco. Però quello che è importante è che Mario abbia altri cinque anni per continuare nella sua opera e soprattutto nel ripristinare quella sua immagine facendo chiarezza su tante cose dette che in verità sono delle vere e proprie bufale. E infine Caprese e Michelangelo a prevalere qui è stata la lista trasversale del neo sindaco prima donna per il comune della Valtiberina Marida Brogialdi. Si Caprese e Michelangelo una lista unica che vede presenti sia esponenti di centro-destra che di centro-sinistra con una connotazione diciamo civica ci risulta che almeno la metà forse qualcosa di più dei candidati eletti comunque vengano dalla precedente esperienza dell'ottimo sindaco Claudio Baroni che almeno noi abbiamo sempre stimato dovremmo vedere come e in che modo vorrà impostare la sua politica sicuramente di ambito civico ma in qualche modo con qualche legame in più con l'area di centro-destra piuttosto che con l'altra area. Ancora politiche Marco Casucci vicepresidente del Consiglio regionale a tracciare un bilancio della prima metà del mandato. Riconfermato da poche settimane alla carica di vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Casucci consigliere della Lega traccia il suo personale bilancio di metà mandato. Quest'ultimo periodo per Arezzo sicuramente c'è stata dal punto di vista sanitario in particolare l'attenzione per quanto riguarda il standonato che abbiamo cercato in tutti i modi di mantenere e valorizzare come un ospedale di eccellenza. Io sono intervenuto sotto più profili proprio per far sì che vi potessero essere delle sostituzioni di macchinari come la PET che è stata sostituita quando era rotta e mancava un pezzo come l'attenzione per il reparto di nefrologia che è stata costante in questi anni come potrei dire anche per la cittadella della salute che ci auguriamo veramente possa sorgere quanto prima nella zona del Pionta. Quindi un'attenzione per quanto riguarda il profilo sanitario che è la foce più importante del bilancio regionale continua. Certo come ho detto Arezzo purtroppo riceve molto meno di quello che dà nel senso che la nuova organizzazione sanitaria della Aslona fondamentalmente Arezzo è versa molto di più di quello che riceve poi dalla regione e questo non può assolutamente andare bene. Siamo inoltre preoccupati delle risorse per il nuovo ospedale perché veramente vengono a mancare delle risorse importanti per la ristrutturazione. Ha sempre avuto un'attenzione particolare per tutti i temi sanitari, ultima in ordine di tempo, una sua interrogazione in consiglio ha riguardato il potenziale ridimensionamento della neurologia dell'ospedale del Valdarno. Attenzione ma al tempo stesso pungolo per la regione per far di più per la nostra città. Bisogna dire con molta franchezza che siamo state vittime di una centralizzazione non voluta dalla gente di Arezzo. In questa Aslona fa la parte del Leone Siena con le scotte e con l'università. A noi questo non ci sta bene. Io faccio il vicepresidente del Consiglio regionale di tutta la Toscana ma sono eletto in questo collegio e fino a quando ci sarò dirò che le cose devono cambiare perché questa nuova organizzazione sanitaria non fa sicuramente il bene e gli interessi della città. Abbiamo visto che possono tornare indietro. Potrei dire i distretti sociosanitari della Valtiberina del Casentino sono tornati. Noi si diceva che anche lì avere un unico distretto sociosanitario di quasi 200.000 persone tra Arezzo, la Valtiberina e il Casentino non facevano gli interessi delle vallate e diciamo di fatto sono tornati indietro. Noi aspettiamo che vi sia quantomeno autonomia finanziaria per Arezzo perché le risorse di Arezzo sono di Arezzo altrimenti si torna indietro. 10.000 euro invece il contributo a beneficio dell'Ufficio Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità grazie a questa somma messa a disposizione dalla Comune di Arezzo l'Ufficio provvederà a finanziare i progetti degli istituti comprensivi del convito nazionale finalizzati a sostenere la conoscenza della lingua italiana e a promuovere percorsi di facilitazione per gli studenti arrivati di recente o che presentano difficoltà nell'uso di questa lingua. E adesso passiamo all'economia. Oggi ultimo giorno di Oro Arezzo che chiude l'edizione 2023 con un bilancio positivo più 40% di affluenza di visitatori rispetto al 2022. Abbastanza bene, non c'era molta presenza di espositori però i clienti c'erano e abbiamo anche lavorato diciamo. Non una fiera al top ma considerato il periodo che non è il migliore dell'anno una fiera discreta. Non è che la fiera poteva risolvere quelle cose che si sta vivendo tutti i giorni. Nel complesso diciamo siamo abbastanza soddisfatti. Molte luci e qualche ombra si chiude così l'edizione 2023 di Oro Arezzo. Dopo effettivamente i due anni di Covid che l'hanno vista chiudere e l'anno scorso che ha avuto un calendario diciamo meno favorevole invece quest'anno siamo ripartiti con le sue date, con i suoi buyer, con le aziende e la tendenza è molto positiva e molto buona. Già siamo sui livelli del 2019 quindi molto bene e anche rispetto all'anno scorso insomma siamo cresciti a doppia cifra. Nuovi contatti anche veramente da paesi che prima non si erano mai visti quindi positivo direi. Quanto meno per i mercati nostri abbiamo avuto diversi clienti quindi siamo stati soddisfatti. Quali sono i vostri mercati? Beh tendenzialmente diciamo siamo sui mercati arabi e Medio Oriente. Non è stata per me una fiera entusiasmante. Avrei preferito più presenze sinceramente dal punto di vista europeo. In città sono arrivati oltre 350 espositori e 400 buyers provenienti da 45 paesi tra i principali mercati di sbocco del settore orafo gioielliero italiano. Per Arezzo il mercato principale resta Dubai come hub di distribuzione per tutto il Medio Oriente ma l'America è comunque un mercato sempre importante per noi e la Turchia è diventata soprattutto negli ultimi anni un hub. Siamo felici, siamo una delle compagnie più vecchie turiche che esibitano qui. Abbiamo molti clienti, specialmente delle compagnie italiane. Buon show! Arezzo nel 2022 si è confermata prima provincia esportatrice di beni preziosi con 3,2 miliardi di euro pari al 31% del nazionale. Assolutamente il Made in Italy è in un momento molto brillante quindi va sfruttato soprattutto qui ad Arezzo che rappresenta il distretto più grande in Italia. Riflettori accesi anche sulle tecnologie produttive. Abbiamo avuto viste di vecchi clienti e anche di nuovi clienti che vogliono approfondire questo discorso sotto l'industrializzazione dei loro nuovi macchinari. Vediamo ecco come andrà il dopo. Tra le collaterali di questa edizione è anche la presentazione del volume Oro d'Autore. Questo è un catalogo speciale dove c'è veramente di tutto. Ci sono questi oggetti meravigliosi di artisti, di scultori, di stilisti fatti dell'azienda Retini. Un volume dedicato alla collezione Oro d'Autore. È infatti il Palazzo di Fraternita nel cuore della città in Piazza Grande ad ospitare l'omonimo museo, una mostra permanente dedicata all'arte orafa del territorio. Il museo raccoglie così una collezione di pezzi unici realizzati dai più importanti artisti e stilisti contemporanei. Un museo che associa la dimensione culturale a quello che è la dimensione economica dell'Oro d'Arezzo, la provincia per eccellenza in Italia, la vera capitale dell'Oro in Italia. Ma contemporaneamente non vi è mai un aspetto economico che possa essere valorizzato se non vi è il strato culturale su cui si evidenzia quali sono le fondamenta di questa realtà. Le fondamenta sono una capacità che Arezzo ha avuto fin dall'epoca etrusca, quindi fin da 2500 anni fa, di creare attraverso la fusione quello che sono veri e propri oggetti d'arte attraverso l'Oro. Una collezione unica nel suo genere, adesso racchiusa nel volume. Quindi ogni gioiello è stato catalogato, fotografato, descritto, commentato e questo è un vero catalogo, come in ogni museo deve esistere il catalogo delle opere esposte. E dico opere non a caso perché si tratta veramente di opere d'arte, gioielli realizzati dalle nostre aziende a livello industriale o artigianale ma su design dei più importanti designer del mondo. Quindi una cosa unica, adesso la vera sfida per la città, per la fondazione è quello di far uscire il museo e la collezione Rodatore dai suoi confini, quindi far attrattività rispetto a una esposizione che è unica al mondo. Il tema della formazione dei giovani, cruciale per imprese e futuro del manifatturiero Orafo Made in Italy, è stato affrontato questa mattina nel corso di un evento promosso da Ora Rezzo per rappresentare le opportunità formative professionali offerte dalle aziende presenti nel distretto Orafo a Retino e dunque per avvicinare i giovani e le loro famiglie al mondo del gioiello Made in Italy. Oltre 200 gli studenti delle scuole superiori della provincia presenti in sala a quali sono state presentate due offerte formative post laurea. E parliamo ancora di scuola e del mondo del lavoro, andiamo a vedere uno stage internazionale che ha avuto come protagonisti 30 giovani a Retini. Un'esperienza che dovrebbero fare in tanti perché veramente poi con l'andare del tempo mi ha cresciuta, mi ha fatto aprire gli occhi e specialmente mi ha fatto vedere com'è il mondo realmente. Ti cambia davvero la vita, capisci che c'è altro al di fuori del mondo in cui viviamo noi adesso, al di fuori di questa scuola, al di fuori della nostra casa. Hanno avuto la possibilità di trascorrere due mesi tra Tenerife, Praga, Malta e Barcellona grazie a fondi Erasmus e alla progettualità del Consorzio Arezzo Fashion, il liceo artistico Piero della Francesca e il liceo scientifico Francesco Redi. È un'esperienza formativa dal punto di vista delle competenze nel lavoro, ma soprattutto nella vita perché è un'esperienza di conoscenza, di adattamento a nuove realtà, di possibilità di imparare una nuova lingua, di perfezionare quella che già conoscono e quindi perlomeno noi il feedback che abbiamo avuto è assolutamente positivo da questi ragazzi. Un'esperienza formativa a 360 gradi per i giovani studenti eretini. Riesci a gestirti da te come magari un ragazzo sempre avrebbe voluto fare, però ha anche i suoi aspetti non negativi, però formativi, cioè che ti trovi a dover fare tutto da te. Una significativa esperienza di stage all'estero adesso condivisa con gli altri studenti e gli imprenditori del territorio. I ragazzi con dei periodi all'estero, in questo caso con l'Erasmus e altre attività, vivono esperienze importanti che le aiutano a crescere, non solo da un punto di vista linguistico, ma anche lavorativo, conoscono mondi nuovi. E quindi per noi oggi questo momento di restituzione e di comunicazione assume un valore importante perché lo comunichiamo anche a tutti gli altri studenti. Domenica 21 maggio sarà una giornata di festa e partecipazione nel quartiere di Saione che tornerà ad essere un vero e proprio laboratorio di innovazione sociale grazie ad un ricco programma di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Si tratta della seconda edizione di Saione Mob, evento organizzato da Oxfam, Confesercenti, Comune, Fondazione, Arezzo Comunità e dalle associazioni della zona. Quest'anno l'evento sarà arricchito anche da un significato in più. La manifestazione infatti sarà in memoria di Piero Franchini e di Iole Palladino. La prima oltre ad essere stato uno storico dirigente di Confesercenti era anche un punto di riferimento con la sua attività in via Vittorio Veneto. Ed adesso invece si spostiamo in Casentino. In occasione della rassegna, aspettando naturalmente pianoforte, arriva Niccolò Fabi. Il cantatore romano sarà protagonista la sera del 21 luglio a Prato Vecchio in piazza Jacopo Landino con il suo attesissimo live. Il concerto prenderà avvio alle 21. E sabato 20 maggio invece alle 19 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie dopo alcuni anni di stop forzato torna la rassegna musicale corale l'incanto della voce dell'associazione Voce Incanto dedicata alla magia della voce e della musica corale. Adesso passiamo alla pagina dello sport torna la terza edizione dell'Aquila d'Oro il premio della città di Arezzo ai valori dello sport. L'evento promosso dalla ginnastica Petrarca in sinergia con il comune Ilconi è in programma per le 21.15 di martedì 11 luglio alla Fortezza Medicea di Arezzo era proposta una serata in cui celebrare e raccontare le storie virtuose di atleti e personalità della società civile che con la loro azione hanno dimostrato di essere positivi esempi di impegno, determinazione resilienza, etica e fair play. Tra i protagonisti di quest'anno ci sarà anche il CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su strada Daniele Bennati. E ora il calcio femminile trasferta doppia per Primavera ed Under 15 delle giovani Amaranto entrambe impegnate a San Marino le ragazze di mister Lilaria Leoni erano impegnate in un amichevole contro le padrone di casa del San Marino Academy squadra che milita nel campionato di Primavera 1 le Amaranto si sono imposte per 2 a 4 San Marino Academy vince 2 a 1 invece nella categoria Under 15 in una partita sostanzialmente giocata alla pari tra le due formazioni stranipanti poi le Under 17 contro l'Academy Livorno la stessa Academy Livorno che ha avuto invece la meglio sulle pari Amaranto di mister Bracciali per quanto riguarda invece l'Atletica questo fine settimana è stato Arezzo ad ospitare il campionato regionale di società assoluto di atletica leggera allo stadio Tenti Ottimi risultati grande partecipazione ed impeccabile organizzazione per il campionato regionale di società assoluto di atletica leggera l'Alga Atletica Arezzo ha infatti ospitato la più importante manifestazione Toscana Primaverile che ha registrato circa 1500 iscrizioni da 50 società in 40 diverse specialità di velocità, salti e lanci fornendo così la possibilità di vedere in azione allo stadio Tenti anche alcuni atleti della nazionale italiana questa volta è stata molto partecipata con personaggi molto importanti dell'Atletica Toscana quindi una bella due giorni di sport peccato per il maltempo di ieri però insomma la gara si è svolta liscia lo stesso siamo molto molto contenti tanto pubblico tanti atleti quindi due belle giornate di sport gli atleti e aretini sulle piste dello stadio Tenti hanno conquistato un oro, un argento e due bronzi sicuramente nelle corse sono andati particolarmente bene perché questa pista è particolarmente buona per le corse i concorsi sono stati un pochino ieri più penalizzati dal maltempo chiaramente però insomma in media dicevo risultati di un livello medio alto ci sono diversi ragazzi prima di tutto Nicola Sgavagni che già nello scorso anno ha fatto una nazionale allievi nel salto in lungo è arrivato terzo ai giochi della gioventù europea che ha già fatto 7,06 metri è allievo quindi sicuramente uno che ha un bel futuro davanti questa perra stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a presto